Vi ho dato l'esempio. In questa pagina di Vangelo, al termine della lavanda dei piedi, Gesù propone la prospettiva di Dio, che è quella del grande che si mette al servizio del più piccolo, di chi ha responsabilità che si mette a servire gli ultimi. Sapremo nella nostra vita entrare in questa logica evangelica? Dal Vangelo secondo Giovanni Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro La carità, l'amore verso gli ultimi, ci pone nella prospettiva di Dio. Chi ha una responsabilità vive non per essere servito, ma per servire. Quanto Gesù fa rivela come sia l'amore di Dio. Amando senza una ricompensa, entriamo nella logica di Dio. Sono capace di gesti d'amore anche verso chi mi ha ferito. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Tradire Gesù è voler uscire dalla logica del dono. Il boccone di Giuda è segno, è il segno di chi si è dimenticato che è amato da Dio. Il cristiano non ama perché è più bravo, ma perché ha ricevuto più di quanto possa meritare e donare. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. Di cosa parla Gesù? Ciò che deve accadere è la sua morte in croce. Quando ciò accadrà, i discepoli sapranno che Gesù è io sono. Io sono colui che sono è il nome di Dio. Sulla croce si rivela il volto di Dio. In verità, in verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi è colui che Gesù manderà? Può essere l'apostolo che agisce per portare il Vangelo. Ma è soprattutto lo Spirito Santo. Lo Spirito ci rivela quanto avviene sulla croce. Ci permette di riconoscerlo. Ci apre alla carità di Dio. Ci mette in comunione con Dio Padre in Cristo Gesù. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link in descrizione. A domani e buona giornata. La chatte è stata creata. Grazie a tutti.